salve ragazzi cari amici del web sono andrea bruno mi trovo a ponti anac una città di discrete dimensioni abbastanza grossa parliamo mezzo milione di abitanti questo è l'ordine di grandezza ufficiali magari saranno anche molto di più sono come le formiche e da quando sono qua non ho visto un benzinaio ovvero il benzinaio è questo con i colori del tricolore e la benzina viene venduta così in centro ci siamo esattamente nel cuore nel centro la benzina viene venduta in questo modo qua nei canestri nella giungla è uguale perché ho fatto anche il giro fuori ci sono delle fermate e vendono la giungla nella giungla vendono la benzina esattamente come in città ecco questo un po il posto è molto bello adesso girerò un altro clip circa il bellissimo monumento che abbiamo davanti un monumento del culto una moschea musulmana molto bella caratteristica colorata continuate a seguirmi ci sentiamo la prossima e ve la do io l'interno